Vado a fare una passeggiata, aveva dichiarato Alberto Girardi prima di prendere la porta di casa, ma quei due passi si sarebbero trasformati di lì a due giorni in una tragedia. Il corpo di Girardi, 53 anni, originario di Treviso, è stato trovato poco dopo le 7 di questa mattina tra Quinto e Paese, nei pressi di Via Brondi, a due passi dalla massicciata ferroviaria. A ritrovare il corpo di Alberto, un macchinista che stava transitando sulla linea Treviso-Vicenza, il trevigiano da tempo soffriva di problemi psichici, tanto che dallo scorso fine marzo era stato ospitato nella casa alloggio di Paese, in Via Legnago. Le ricerche condotte dai carabinieri, polfer, vigili del fuoco, polizia locale e operatori della casa alloggio erano partite fin da subito, ma secondo i medici intervenuti sul posto, la morte risalirebbe almeno alla tarda serata di giovedì. Le ferite, trovate sul corpo, in particolare la testa e la gamba sinistra, sarebbero compatibili con lo scontro con un treno in transito. Tra qualche giorno Alberto Girardi avrebbe dovuto far ritorno nella sua abitazione, nel centro di Treviso. non si era mai sposato e per anni aveva prestato assistenza come istruttore per corsi di tecnico assistente ospedaliero e operatore sociosanitario, a piange nella scomparsa i due fratelli, tra cui Francesco, noto oculista trevigiano.